Un progetto di digital transformation che con lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie cerca di dare una consulenza online a lavoratori iscritti e non iscritti. Questo è un progetto che ci serve oggi per combattere il problema Covid, che non possiamo andare nell'azienda a fare le assemblee o fare i corsi, ma che sicuramente in futuro potrà essere utilizzato per altri scopi. Ad oggi abbiamo già avuto più di 100 richieste di consulenze, quindi giornalmente i colleghi rispondono, chiamano o fanno videoconferenze con le persone, un servizio che ci sta dando delle soddisfazioni, questo che vedete è il partner con cui abbiamo sviluppato questa piattaforma. Ciao! 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 Ciao!